Benvenuti sul canale, oggi Timu Haul, sono molto contenta oggi perché ho selezionato dei prodotti per quanto riguarda la cura della pelle, quindi skin care, e per quanto riguarda anche l'applicazione del make up. Infatti io stessa ho dei problemini quando devo applicare magari il mascara o l'eyeliner e quindi ho voluto comprare delle cose per semplificare l'applicazione del make up e ve le volevo far vedere perché so che magari tra di voi c'è qualcuno che è interessata a vedere questi piccoli utensili che ci possono aiutare nel facilitarci la nostra vita. Ad iniziare però vi ricordo che qua sotto vi lascio il link per l'app di Timu da scaricare semplicemente, i codici sconto per accedere appunto agli sconti di Timu e la lista con tutti i prodottini che ho selezionato oggi. Mi scuso in anticipo perché ho già aperto alcuni pacchi, alcuni sacchetti, ho cercato di riporli al meglio ma non ci sono riuscita e questo l'ho fatto appunto perché anche su Instagram ho fatto dei contenuti quindi se non mi segui ancora su Instagram male male male, seguimi e mi trovi sempre come Miss Merci Boccu. Comunque iniziamo dal primo pacchetto che ha questo Hot Compress Towel e non vedo l'ora di utilizzarlo. è praticamente un piccolo towel per il viso, mi piaceva il fatto appunto che avesse questi elastici che sono semplicissimi da mettere dietro le orecchie in modo tale da non far muovere diciamo spostare questo towel quando volete fare la vostra skin care e andare a purificare il viso prima dell'applicazione di maschere e per dilatare i pori. Ha questi taglietti sugli occhi e sul naso, sono sicura che questo lo trovate anche su altri siti ma il prezzo di Timu è imbattibile quindi l'ho voluto prendere per iniziare a prendere più cura della mia pelle, soprattutto del viso. Altro prodottino molto interessante è questo eyeliner aid, questo piccolo aiuto per posizionare l'eyeliner. La cosa carina è che non è soltanto un piccolo aiuto appunto per andare ad applicare l'eyeliner ma serve anche per applicare la crema sul viso, quindi un face cream applicator e anche un lipstick assistant. Vi faccio vedere anche qua così potete vedere bene, ci sono i vari tips, le varie indicazioni, qua ci sono anche le istruzioni per come poterlo utilizzare e io fondamentalmente se vi devo dire la verità l'ho acquistato per l'applicazione dell'eyeliner perché ogni volta la linguetta finale non è mai perfetta quindi ho detto con questo aiutino da mettere qua tra l'altro morbidissimo posso aiutarmi nell'applicazione dell'eyeliner però appunto mi piaceva anche il fatto che sia multitasking e quindi si può anche utilizzare per l'applicazione della crema con questa puntina qua credo sia fatto in silicone comunque questo applicatore e poi è anche carino perché potete anche utilizzarlo appunto per applicare un rossetto particolarmente scuro magari e volete applicarlo alla perfezione, quindi anche questo è un piccolo aiutino beauty che secondo me è una chicca. Questo dupe perché abbiamo dei dupe di Real Techniques, li riconoscerete senz'altro, sono i pennelli proprio basici della Real Techniques e questo set è un set di otto pennelli, sono veramente rimasta positivamente colpita perché come potete notare veramente sono super morbidi le setole sono morbidissime e poi è veramente scioccante il fatto che assomigliano veramente ai pennelli della Real Techniques l'unica differenza è che non hanno scritto l'utilizzo di solito nei pennelli della Real Techniques, c'è proprio scritto per quale uso ogni pennello è indicato mentre questi no e ci sono appunto i vari per il viso, credo che questo sia per l'eyeshadow e poi appunto questo che utilizzerò personalmente per quanto riguarda il concealer e devo dire sono rimasta positivamente colpita, vi ho detto che è un set da otto pennelli e il prezzo davvero è imbattibile se state cercando un set di pennelli validi. L'ho visto in ogni dove, sono felice di averlo acquistato, credo che anche voi lo riconoscerete, è un prodotto che serve per andare a pulire a fondo la pelle da ogni tipo di impurità, punti neri, pori dilatati e quant'altro ed è proprio quello basico, lo vado a spacchettare adesso con voi è così, ovviamente c'è la pellicola protettiva di protezione e ci sono tre modi diversi nel quale appunto potete utilizzare questo strumento per la vostra skin care, ovvero selezionare il primo che è lifting, moisturizing o cleansing, quindi un po' il metodo per andare a liftare la pelle il moisturizing per andare ad idratare la pelle utilizzando anche una crema e cleansing potete andare appunto a pulire la pelle a fondo. La cosa carina è che oltre a questo in dotazione viene dato ovviamente il cavetto usb e poi due applicatori diversi uno fatto in questo modo, quindi con questi dentini e uno un po' più ondulato. Anche questo lo andremo a provare e non vedo l'ora perché ho visto davvero tantissimi video dove porta via tutte le impurità della pelle ed è una sensazione che non vedo l'ora di provare sulla mia, soprattutto sul mento le ho e sarà super satisfying, non vedo l'ora di provarle insieme a voi. Ho preso delle ciglia finte, queste che hanno un look veramente naturale, infatti la cosa che voglio donare al mio occhio è un po' più di volume nella parte finale dell'occhio, quindi ho preso queste qua che è un set da 3, 4, 5 e proprio per questo ho comprato questo set di prodottini molto utili, ovvero 4 scovolini per le sopracciglia per andarle a pettinare e fissarle con i gel, l'applicatore per le ciglia finte, in realtà uno potrebbe anche utilizzare una pinzetta però io ho voluto utilizzare queste perché ogni volta riesco di accecarmi ho poi preso anche questo che era compreso in questo set che va utilizzato per andare a ripulire le ciglia dal mascara in eccesso e questo strumentino, sapete dirmi a cosa serve? è un applicatore del mascara per facilità nell'applicazione, va messo nella parte inferiore e va passato appunto il mascara in questo modo, e poi va applicato in questo modo nella parte superiore e va passato il mascara, in modo tale da non sporcare la parte appunto della pelle soprattutto questa parte dove io anche questa mattina ho fatto un piccolo disastro non vedo l'ora di utilizzarlo e sono molto molto contenta soprattutto di questo per la skincare abbiamo questo set che vi faccio vedere abbiamo il cerchietto che veramente sono super super felice di aver trovato nero che è il colore della mia vita è uno di quei cerchietti che vanno super virali fatti in spugna e c'è scritto fatto a mano, handmade nel sacchetto troviamo anche una mollettina carinissima nera mattificata che è sempre utile abbiamo poi due di questi scrunchies neri vellutati anche questi super utili e due polsini per evitare appunto durante la skincare che l'acqua coli in ogni dove quindi sono due di quei polsini che sono andati proprio virali ma neri la skincare però in questo caso per Sophie abbiamo questi due polsini super carini tra l'altro non so come mai avevano dei fili dentro ecco e questi hanno questi rossacchiotti sono veramente deliziosi non vedo l'ora di darglieli perché lei si lamenta sempre che l'acqua le va nel pigiama quando si deve lavare le manine o quando alla sera le piace lavarsi il viso prima di andare a dormire quindi secondo me questi saranno dei piccoli aiuti per evitare che si bagni tutta anche la mattina quando magari si prepara per la scuola si deve lavare i dentini e poi questo sempre per lei sempre per lo stesso motivo così almeno si può lavare il viso alla mattina senza bagnarsi tutti i capelli però appunto sarà una cosa molto divertente tra l'altro molto presto voglio fare anche una night routine con lei per farvi vedere night or morning routine per farvi vedere un po' le cose che facciamo la mattina quindi questo era per lei sempre per la Sophie l'ultima cosa anzi le ultime due cose sono questa led mini starlight che è l'unica cosa, no, tre cose che non sono a tema beauty o skin care ed è una mini starlight dovrebbe fare una sorta di proiezione di tutte queste lucine nella camera e non vedo l'ora di utilizzarlo di sera per creare una sorta di atmosfera magica e sempre per lei le ho preso questo astuccino lei è fissata con gli astucci, ne ha tantissimi però appunto volevo darle una cosa in questo stile tutto orsacchiotoso e secondo me è molto carina non soltanto per bambini ma anche per noi per il make up cose che magari vogliamo mettere nella borsa poi il trend del teddy quest'anno è proprio andato super di moda quindi molto molto carina anche questa l'altro prodotto che ho selezionato è questo togli pelucchi che appunto ho voluto riprendere in questa versione di caricabile perché nello scorso video, nella scorsa collaborazione ho voluto prendere quello manuale ma ahimè mi sono trovata non male di più e quello manuale mi ha rovinato anche un maglione quindi non prendetelo e ho voluto optare per questo perché sinceramente voglio riportare in vita i miei maglioni quelli soprattutto che hanno un sacco di pelucchi sotto le maniche e nelle parti appunto dove facilmente i maglioni si rovinano e ho voluto prendere questo lo utilizzerò e vi saprò dire sicuramente o qua su youtube o su instagram se vale la pena comprarlo o no ultimi due prodotti sono questo guanto per fare una bella esfoliazione della pelle perché come sappiamo appunto la pelle durante la doccia va ben esfoliata perché abbiamo un sacco di pelle morta che va rimossa scusatemi la franchezza proprio e a differenza degli altri guantini questo mi piaceva perché ha il buco qua dove potete appunto inserire il vostro dito, il vostro pollice perché gli altri guanti mi scappano alla presa non so come spiegare ma gli altri guanti esfolianti essendo così non mi permettono di utilizzarli appunto come vorrei in alcune zone del corpo e quindi mi piaceva il fatto che questo avesse questa cosa qua non l'ho mai visto sul mercato non l'avevo mai visto quindi ho detto sai che c'è lo prendo perché voglio tra gli obiettivi del 2024 anche prendermi più cura del mio corpo, della mia pelle non soltanto quella del viso ma anche quella del mio corpo che comunque va curata insomma e quindi questo molto molto carino e tra l'altro costato una sciocchezza e poi ho preso questi due questi due che sono delle grucce che servono per ottimizzare lo spazio nell'armadio erano purtroppo le ultime due rimaste ma ce ne sono anche altre in altre colorazioni io però le volevo semplici grigie e praticamente vanno messe come una semplice gruccia nell'armadio e poi voi potete mettere diversi capi di abbigliamento con le varie grucce in modo tale appunto come vi dicevo prima da ottimizzare lo spazio nell'armadio secondo me un'idea geniale quindi questo era tutto lo shopping che ho fatto su Timu tutte le cose che ho selezionato vi ricordo che presto proveremo il tutto qua sul canale quindi se non sei iscritta iscriviti al canale vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video bye ciao ciao ciao